beautiful anticipazioni dell'episodio che andrà in onda martedì 29 ottobre 2024 brooke archiverà l'amicizia con taylor come un momento di crescita che gli ha permesso di mettere a fuoco le sue priorità e suoi desideri e la sua priorità adesso è come sempre l'amore per leggi iscrivetevi al nostro canale youtube ls della squadra perché abbiamo tanti contenuti su tutte le shop ma questo tantissimi altri argomenti buona visione a tutti quanti